Salve, sono Alessandro Ceccaroni, Presidente di Agroinvestment SGR, parliamo di mercati finanziari. Attraversiamo un momento alquanto delicato in quanto il credit crunch, ossia la crisi dei crediti che è iniziata come ormai tutti sanno dai crediti subprime americani e si è propagata a macchia d'olio su praticamente tutti i tipi di credito, ora è di nuovo sotto i riflettori, se vogliamo un po' a scoppio ritardato, stanno cominciando a venire fuori o probabilmente è già venuta fuori la maggior parte dei problemi dal punto di vista delle banche, cioè le banche e le assicurazioni hanno nelle ultime settimane tirato fuori nei loro bilanci, hanno dichiarato ingentissime perdite nei rispettivi bilanci. Il mercato ha particolarmente penalizzato le istituzioni finanziarie anche molto più di quanto non fece al massimo della crisi che ricorderemo lo scorso agosto, quando anche i mercati azionari presero molto sul senso la situazione, si avvitarono per un momento finché poi non intervennero le banche centrali, la Fed, nel frattempo la Fed della riserva americana ha tagliato i tassi di riferimento di tre quarti di punto e molto di più il mercato si attende dalla Fed, la BCE oltre a aver fornito abbondante liquidità al mercato, ha interrotto il programma di rialzi che aveva intrapreso malgrado i segnali inflazionistici, quindi c'è un certo attivismo da parte delle banche centrali, questo ha tutito la caduta dei mercati, i mercati azionari nei paesi sviluppati in Europa negli Stati Uniti sono ancora leggermente positivi nel 2007, mentre come dicevo prima scoppio ritardato, i bancari, gli assicurativi e i broker dealers sono sotto pressione già da qualche settimana e oggi uno può comprarsi un titolo come Merrill Lynch a sconto del 40% rispetto all'inizio dell'anno, un titolo come Citigroup a sconto similare, un titolo come Unicredito al 30-40% dai massimi rispetto all'anno e così tante altre banche europee. Ripeto, questo è un fenomeno in parte dovuto a certi meccanismi di mercato, la mancanza di trasparenza ancora ci si chiede quanto sia il danno sul bilancio delle banche della crisi del credito. La crisi del credito che però dobbiamo dire non deriva da effettivi di folto, cioè da effettivi insolvenze da parte dei debitori, quindi si tratta chiaramente di un fenomeno di valutazione delle attività finanziarie, una valutazione delle attività finanziarie alquanto opache su bilanci opachi. Questo è un po' il problema, il mercato nell'incertezza vende, probabilmente stiamo vivendo una situazione di sottovalutazione dei titoli finanziari, noi crediamo così e stiamo cercando di selettivamente investire in questi titoli, però attenzione questa è un'attività che non consigliamo al profano, è un'attività per professionisti. Da un punto di vista più generale, quindi al di là di questa crisi del credito, vediamo che i mercati scontano indubbiamente un ulteriore depreciamento del dollaro, dollaro che è ai minimi storici rispetto alla maggior parte delle valute, oltre 1,47 con l'euro e in questo momento sta scendendo molto violentemente contro lo yen, oltre 2,10 contro la sterlina, quindi la debolezza del dollaro è sicuramente legata a aspettative di ulteriori abbassamenti dei tassi americani, quindi tutto ciò che è denominato in dollari schizza il petrolio tra i 95 e i 97 dollari, l'oro che ormai stabilmente è sotto 800 dollari l'oncia, intorno a 830-840, questi sono fenomeni in parte dovuti al depreciamento del dollaro, in parte anche misurano una certa perdita di credibilità da parte della Fed, nel senso che il mercato percepisce che la priorità della Federal Reserve non è la lotta all'inflazione, ma è evitare una recessione in America. In tutto questo i mercati azionari non possono che risentirne, quindi molta cautela sui mercati azionari.